Allora, Loreone Campo si è ingavolata tanto, ma non gli è bastato di fare questo spot oggi davanti alla partenza dei Pullman, intanto dobbiamo dire che è una cosa incomiabile, ma non è solo lei, so che anche Di Pasquale spesso prende il treno, prende il Pullman, ed è una vergogna che non abbiamo collegamenti idonei, perché Ragusa è nel punto finale di questa Italia, volevo dire nel cesso, però non lo dico perché è una brutta parola, perché Ragusa è messa lì sotto e non gliene frega niente a nessuno, questa è la verità. E allora, la Campo, siccome è arrivata giustamente tardi, ha rincarato la dose con questo intervento che mi fa piacere riportare.